No, no, non capate con che sentire siamo tutti maggiori, non pagano niente, ci danno 15.000 lire e ci fanno rompere le ossa, capito? Ma chi è giusto per una persona si deve sentire saltare così? Tu ti devi rendere conto che tu non sei nessuno, io le accendo come te la schifio, la posso scazzare quanto voglio, capito? Sì, semmai io ti c'è senti Enzo, io mio fratello già l'ho messo a posto, lui fa parte con noi, noi siamo la mafia vincente, dice se tu vuoi, ti metti con noi, o ti metti con noi, oppure te ne vai a lavorare. Però io non mi sono pentito per la giustizia, amiche giustizia, oggi ne è giustizia! L'ultima nottata avevano riempito una labbra, che io ne vieno, non partono per vendere queste acciughe, arriva la Firenze, li ferma! C'è domanda la licenza!